Buonasera a tutti. Questo è il secondo incontro, il secondo seminario organizzato insieme dalla Fondazione Magna Carta, dall'Associazione Esserci e dall'Associazione Progetto Culturale. L'argomento è attualissimo, molto complesso e articolato, ma gli autorevolissimi relatori che seguiranno riusciranno a rendercelo plastico e vivo. Io senza perdere tempo ringrazio già fin d'ora tutti e ringrazio anche coloro che ci stanno seguendo i streaming e prima di entrare nel vivo cederei la parola al presidente dell'Associazione Progetto Culturale, Eugenia Roccella, per una brevissima introduzione. Allora, intanto mi scuso per qualche problema tecnico che abbiamo avuto. Spero che adesso tutti quelli che sono collegati possano sentire. E soltanto due parole per spiegare che cosa vogliamo fare, perché abbiamo promosso questo incontro. Come associazione progetto culturale noi vorremmo un po' riprendere i temi che con le grandi iniziative che aveva promosso il cardinale Camilo Ruini aveva iniziato appunto con il suo progetto culturale, che non era un'associazione, era una grande iniziativa che toccava appunto i temi dei valori non negoziabili, della questione antropologica, della vita, della famiglia, della libertà di educazione. Ecco, nel nostro piccolo noi volevamo riprendere questi temi alla luce degli enormi cambiamenti che sono intervenuti da allora ad adesso, anche se non sono passati moltissimi anni. Tutto è cambiato e non possiamo più affrontare quei temi come li affrontavamo, come li capivamo anche solo 4-5 anni fa. Oggi la genitorialità, la soggettività, l'identità sessuale si declinano in modi estremamente diversi e quindi è ancora più importante cercare di capire, ed è anche difficile a volte cercare di capire, per orientarsi in un mondo in cui ormai i fondamenti dell'umano sono a rischio, anzi secondo me veramente sono già compromessi, ma comunque è un mondo nuovo. Come associazione del progetto culturale abbiamo sbagliato clamorosamente i tempi, abbiamo iniziato immediatamente prima del primo lockdown, quindi le nostre attività sono agli inizi e anche limitate dall'impossibilità di riunirsi e di incontrarsi di persona. Il primo incontro a cui ha fatto riferimento Aldo Vitali in realtà era solo del progetto culturale ed era con la professoressa Morresi su salute pubblica e autodeterminazione, in pratica per essere chiari sulle contraddizioni fra l'idea che fino adesso è stata un'idea trinunfante di autodeterminazione assoluta anche in ambito sanitario con tutte le difficoltà che comportava, e invece il concetto di salute pubblica che è riemerso dopo anni in cui era appannato, concetto che di per sé pone dei limiti all'autodeterminazione, quindi si aprono appunto delle contraddizioni interessanti in cui ci si può inserire anche sul piano culturale. È solo oggi che inauguriamo invece questa collaborazione con l'associazione Esserci e con la fondazione Magna Carta, tutte e due, associazione e fondazione, che hanno alle spalle un percorso, una storia molto più lunga della nostra, e però hanno con noi moltissimo in comune, sia nel metodo che nel merito, cioè che negli interessi. E in un momento come questo, che è di confusione, di frammentazione, di mancanza di riferimenti forti, diciamo, sia politici che culturali, e anche di mancanza di spazi di dibattito, mi è sembrato importante fare le cose insieme, cercare appunto di condividere il tentativo di ricreare questi spazi di dibattito approfondito e non solo di dibattito legato alle contingenze, come ormai sembra essere proprio l'unica cosa che ormai vediamo nei giornali, in televisione, eccetera. Quindi ringrazio su questo Gaetano Gagliariello, il presidente della fondazione Magna Carta, e Giancarlo Cesana, che vedo qui, che è il presidente di Esserci, e penso che possiamo fare insieme un buon lavoro. Oggi abbiamo invitato lo studioso che è protagonista del nostro incontro, penso lo conosciate tutti, il professor Luca Ricolfi, sociologo che insegna analisi dei dati a Torino, ed è presidente della fondazione Human. Penso che lo conosciate, anche chi non ha letto i suoi libri lo conosce, almeno io ho seguito molto in questi ultimi mesi le sue analisi e anche i suoi commenti sulla questione della pandemia. Ma l'abbiamo invitato qui, e lo ringrazio moltissimo per aver accettato di esserci, di essere con noi, per parlare della crisi educativa, di quella che abbiamo definito l'emergenza educativa. Anche se sulla parola emergenza ci può essere qualche equivoco, perché non si tratta di qualcosa di transitorio, di qualcosa che è emerso adesso, ma di una patologia cronicizzata ormai, cioè di qualcosa che ormai è un dato consolidato del nostro panorama italiano. Ma il taglio che oggi può dare Ricolfi a questo tema, che noi abbiamo in anni passati approfondito anche sul piano della libertà educativa, delle paritarie e così via, e anche dei contenuti, il taglio di Ricolfi è un taglio originale, perché la questione educativa lui la colloca nel quadro impietoso, devo dire, ma assolutamente calzante, che fa della situazione italiana nel libro La società signorile di massa. La definizione ovviamente è sua, e parte da tre condizioni che sono tipiche del nostro paese, verificabili, la stagnazione economica, i consumi opulenti e gli stili di vita conseguenti, e soprattutto il fatto che ci sia in questo paese una maggioranza, da molto tempo, una maggioranza di cittadini in età lavorativa che non lavora. Ecco, in questo quadro la questione dell'emergenza educativa assume, acquista una luce nuova e assume delle connotazioni che forse non abbiamo ancora esplorato fino al fondo, quindi mi interessa moltissimo esplorarle invece con il professor Ricolfi. Io ringrazio ancora tutti i discussant e gli altri intervenuti che poi Aldo Vitale, il segretario dell'Associazione Progetto Culturale, presenterà, e cedo la parola di nuovo ad Aldo per aprire il dialogo con il professor Ricolfi. Benissimo, grazie Eugenia. Ringrazio ancora tutti, ricordo che siamo in diretta sia sul sito della Fondazione Magna Carta sia su YouTube. Allora, ringrazio il professore Ricolfi anticipatamente, entrerei direttamente nel vivo e partirei proprio dall'analisi che lui ha compiuto nell'ultima pubblicazione citata da Eugenia, appunto la società signorile di massa. E a questo punto però a beneficio soprattutto di chi ci ascolta, di chi non ricorda, avendolo letto o di chi ancora non lo avesse fatto, chiederei al professore Ricolfi che cos'è sostanzialmente questa società signorile di massa. E direi di partire da qui per elaborare alcune riflessioni sul tema principale del nostro incontro. Quindi chiederei al professore che cos'è la società signorile di massa. La definizione l'ha già data Eugenia Roccella, ribadisco solo i tre requisiti per parlare di società signorile di massa, cioè il fatto che un paese sia in stagnazione, che i consumi siano opulenti e che ad essi abbia accesso una maggioranza di non lavoratori. Queste sono le tre condizioni. Dico subito una cosa che ha stupito anche me. Io avevo finito il libro l'anno scorso e a un certo punto mi è venuta la curiosità di aggiungere un capitolo comparativo, cioè il libro era tutto sull'Italia. Mi è venuta la curiosità di vedere quali sono le altre società che rispettano questi tre criteri. Ho preso le società avanzate, quindi diciamo la definizione di società avanzate è molto semplice. far parte o dell'Unione Europea o dell'OECD, o di entrambe naturalmente. Si tratta di una trentina di paesi da cui ho tolto solo la Turchia perché è un paese islamico con caratteristiche del mercato del lavoro completamente diverse. E il risultato è che appunto abbiamo una trentina di paesi. Ebbene, la scoperta per me stupefacente alla fine del libro, per cui a quel punto ho aggiunto un capitolo, è che non esiste nel mondo occidentale, nel mondo delle società avanzate, nessuna società con le stesse caratteristiche della nostra. Semmai ne esiste una che è l'esatto opposto, di cui se volete possiamo parlare a un certo punto, che è Israele. Israele ha tutti i cromosomi all'incontrario rispetto a quelli di una società signorile di massa. Ma a parte appunto il caso di Israele, tutti gli altri si avvicinano più o meno all'ideal tipo della società signorile di massa, ma nessuno lo raggiunge. Nemmeno i paesi che sono più vicini, tipo la Francia, la Spagna, per certi aspetti la Grecia. Le volevo chiedere, professore, a questo punto, i tre elementi a cui si riferiva anche Eugenia, che nella sua analisi costituiscono la società signorile di massa. Sono tre elementi necessari per la sua definizione o è già sufficiente la presenza di uno solo di questi per comprendere se ci si trova all'interno della società signorile di massa? E soprattutto l'Italia e i paesi che già ci si trovano hanno già raggiunto questo stadio? Ci sono paesi che lo stanno raggiungendo e lo possono raggiungere a loro volta? Oppure è una situazione, diciamo, fotografata in modo statico e non dinamico? Dunque, i tre requisiti sono necessari, cioè un solo requisito non basta. C'è un buon numero di società che posseggono due requisiti su tre, ma cui manca il terzo. Per esempio, la Grecia per molti aspetti è una società signorile di massa, però il livello dei consumi non è ancora abbastanza alto per farla rientrare. e una società come la Francia o come la Spagna sono già società signorile di massa, salvo un particolare che non sono ancora entrato in stagnazione. Quindi, per quanto uno cerchi di trovare qualcosa, qualche sistema sociale che si avvicini al nostro, non ci riesce se i requisiti sono richiesti tutti e tre. Però volevo finire la presentazione della società signorile dicendo due parole su come ci siamo arrivati, che mi sembra più importante che la definizione statica, anche perché questo magari ci aiuta a capire dove stavamo andando, perché poi col Covid la traiettoria è cambiata. Ebbene, se noi ci chiediamo da un punto di vista storico come siamo arrivati ad essere una società signorile di massa, vediamo che ci sono stati un paio di processi, più un terzo di cui parlerò alla fine, che hanno costituito la società signorile di massa. Questi tre processi sono, primo processo, l'accumulazione di ricchezza. Cioè noi abbiamo due generazioni, cioè la mia e quella dei miei genitori, che hanno contribuito a conferire all'Italia un livello di patrimonializzazione molto alto. Probabilmente è il più alto del mondo, se non è il più alto è tra i primi. Per patrimonializzazione intendo ovviamente il rapporto fra la ricchezza finanziaria e immobiliare di un paese e il PIL. Questo rapporto si può calcolare in tanti modi, ma viaggia su valori molto alti, tipo 8 o 9, che hanno uguali in pochi altri paesi del mondo, per lo più piuttosto piccoli. Quindi ci sono due generazioni che hanno accumulato ricchezza. Questo è importantissimo per capire come funziona il mercato del lavoro oggi. Questa accumulazione di ricchezza è avvenuta in maniera diversa. Cioè la generazione dei miei genitori ha accumulato ricchezza soprattutto attraverso quello che in modo un po' retorico siamo abituati a chiamare i sacrifici. Cioè c'è una generazione che in maggioranza ha differito la gratificazione e soprattutto in vista del benessere dei propri figli ha accumulato ricchezza per molti decenni, essenzialmente attraverso il lavoro. Poi c'è un'altra generazione che è la mia o la nostra, se qualcuno è nato più o meno ai miei tempi, io sono del 50, che non posso dire che non abbia accumulato ricchezza attraverso il lavoro, ma è stata fortemente aiutata dalle dissennate politiche del nostro Stato centrale che ci ha inondati di risorse cui non corrispondeva un prodotto effettivo. Il debito pubblico, la crescita del debito pubblico già negli anni 70 e 80 è uno dei motori fondamentali della ricchezza accumulata dall'Italia. E questo è il primo processo. Poi c'è il secondo processo che è quello che forse interessa di più il dibattito di oggi, è il processo che io ho chiamato nel mio libro la distruzione della scuola. La distruzione della scuola e dell'università sono un requisito fondamentale per il funzionamento di una società signorile di massa. Se una società non riesce a distruggere adeguatamente la scuola e l'università, non può funzionare come una società signorile di massa. Su questo io mi fermerei dopo, però credo che sia il punto centrale per la nostra chiacchierata di oggi, visto il tema. Prima di arrivare a questo punto, così poi magari sentiamo dopo su questo anche aspetto gli altri intervenuti, mi chiedevo come mai c'è questa correlazione un po' paradossale sul fatto che dall'analisi del suo libro, per esempio, emerge questo fatto che crescono sostanzialmente i consumi, la società è opulenta, viviamo in una forma di benessere sostanzialmente accettato, condiviso e anche tutto sommato diffuso, eppure da un lato diminuiscono le occasioni di lavoro, diminuisce il senso del lavoro, e dall'altro si sviluppa quella che lei ha definito una dimensione paraschiavistica nella nostra società. Lei ha anticipato giusto il terzo pilasto, che è appunto l'infrastruttura paraschiavistica. Allora, il meccanismo è abbastanza semplice. La distruzione della scuola, che io intendo nel duplice senso di abbassamento della qualità del insegnamento impartito, scuola e università, ma anche nel senso di abbassamento dell'asticella, perché uno può anche tenere abbastanza alto il livello dell'insegnamento, ma abbassare molto l'asticella della promozione. Allora, questo processo ha prodotto uno dei fenomeni centrali della società signorile di massa, che è la cosiddetta disoccupazione volontaria. Cioè, masse di persone equipaggiate con un titolo di studio medio-alto, o un diploma, o una laurea, o una laurea magistrale, o addirittura un dottorato, che accedono al mercato del lavoro con competenze certificate dalle nostre istituzioni, ma che in una proporzione abbastanza ampia, certamente superiore al 50%, non posseggono affatto le competenze che sono state certificate. Ora, l'atteggiamento del mercato del lavoro verso questo tipo di soggetti è diverso da quello delle istituzioni educative. Le istituzioni educative, come la scuola e la famiglia, hanno nei confronti dei soggetti in formazione un atteggiamento che è fondamentalmente di indulgenza e di protezione materno-sindacale, fenomeno che si è sviluppato soprattutto negli ultimi 25 anni, a mio parere. Cioè, l'invasione dei genitori nella scuola è un fenomeno che non c'era negli anni 70-80, si è formato soprattutto alla fine degli anni 90. Allora, dicevo, questa trasformazione della scuola produce sul mercato del lavoro un fenomeno che tutti chiamiamo disoccupazione volontaria, ma che dipende dal punto di vista che i datori di lavoro hanno nei confronti delle competenze di chi è formato dalla scuola e dell'università. Questo atteggiamento del mercato del lavoro, l'atteggiamento, diciamo, datoriale, non è materno, protettivo o vagamente sindacale, ma è di altra natura. Cioè, il fatto che una competenza sia certificata non implica che il potenziale datore di lavoro creda al contenuto del pezzo di carta. Le competenze vengono testate o ex ante o ex post dopo l'assunzione, ma comunque vengono richieste. Quindi abbiamo un dramma per un'intera generazione, cioè una generazione che è stata ingannata dalla scuola attraverso falsi ideologici, sostanzialmente, cioè la certificazione di competenze assenti. e dall'altra però incontra la pietrosa realtà del mercato del lavoro nel momento in cui esige che le competenze riconosciute dalla scuola vengano riconosciute anche dal mondo delle imprese e del lavoro. Questo scontro, o meglio, questo test di realtà, produce fenomeni di tipo psichiatrico anche, nel senso che, lo dico in un senso non tecnico e non forte, ma psichiatrico nel senso di contraddizioni della mente. Io nel mio libro non faccio affatto né una difesa dei giovani né un jacuzzi nei confronti dei giovani. Io dico che l'autodescrizione che le persone escluse dal mercato del lavoro o che non riescono ad avere successo sul mercato del lavoro, l'autodescrizione che mettono in atto è perfettamente legittima. Possono anche sentirsi vittime, ma è anche legittima la contraddescrizione che una parte del mondo esterno dà nei loro confronti. Cioè, voi vi potete permettere di consumare in modo opulento senza lavorare. Voi, naturalmente, non tutti. Però, voi sapete che l'Italia ha il record mondiale dei NIT, cioè dei ragazzi che non fanno nulla, e nel mio libro io dimostro una cosa che ho già dimostrato peraltro molti anni fa, cioè che c'è un'equazione che prevede piuttosto accuratamente quanti NIT avrà un paese, cioè quanti ragazzi che non fanno nulla. Questa equazione collega la percentuale di NIT a un indicatore. Questo indicatore sembra molto strano, ma funziona da Dio. Questo indicatore è il rapporto tra la patrimonializzazione di un paese, cioè la sua ricchezza accumulata, in sostanza, e la fecondità femminile. Voi direte, a cosa c'entra la fecondità femminile? C'entra perché metterla a denominatore significa che l'indice schizza quando un paese fa pochi figli e sta molto più basso quando ne fa molti. Allora, se un paese come Israele o come la Francia fa tre, quattro figli e un altro come l'Italia ne fa uno virgola due o uno virgola tre, beh, a parità di patrimonializzazione, quel rapporto si alza per i paesi in cui la fecondità femminile è bassa. E cosa indica quel rapporto? L'eredità attesa, è molto semplice. E l'eredità che ragionevolmente un ragazzo di 30 o 40 anni, perché ormai si autoconsiderano ragazzi anche a quest'età, può attendersi dai genitori. Io questa situazione la descrivo in modo vagamente letterario con la figura di Jacopo, cioè di un giovane che se la passa piuttosto bene e che fa un calcolo tutto sommato razionale quando decide di non lavorare. Chi glielo fa fare di lavorare? Se può fare una vita molto piacevole, mantenuto dai genitori, con tutte le libertà che attualmente vengono concesse spesso nelle famiglie di ceto medio-alto. Non solo, ma la preoccupazione per il futuro nella mente di Jacopo, diciamo che se non si attenua, passisce più che svanire, quando considera concretamente che cosa può succedere. Allora può succedere che cosa nella sua vita? Che i suoi genitori vivano a lungo e che anche attraverso la pensione lo mantengano finché lui lo desidera, oppure che muoiano precocemente trasferendogli il patrimonio che due generazioni hanno accumulato. Io poi sono dell'idea che il calcolo in parte è sbagliato, è un po' diciamo azzardato come calcolo, però nella testa di una persona di 30 o 40 anni questo può essere magari presente soltanto in modo inconscio, però non può non essere presente. Cioè tu non puoi non sapere che hai le spalle coperte, non puoi non sapere che la tua famiglia ti garantirà sempre un sostegno. E questo fa un'enorme differenza perché se questo non ci fosse tu accetteresti anche dei lavori che non ritieni all'altezza degli studi che hai fatto, mentre invece con questo tu quei lavori sei in condizione di rifiutarli. Ecco, questo è il meccanismo centrale del mercato del lavoro, a mio parere. Possiamo dire sostanzialmente che la società signorile di massa, almeno come si è profilata in Occidente in genere, in Italia in particolare, è una società diseducata all'educazione, alla produttività dell'educazione. Ma lei stesso aveva citato l'eccezione di Israele. Come mai per esempio Israele che nello scenario dei mondi occidentali, occidentalizzati, è quello più singolare, che costituisce un'eccezione in questo panorama, in questo scenario? Quali sono le formule che fanno di Israele una controtendenza rispetto allo scenario occidentale? Ma ci sono molti elementi tra cui un tasso di occupazione elevato, ma soprattutto la fecondità femminile. Israele è una società giovane, come era giovane l'Italia negli anni 50, e come sono giovani le famiglie di immigrati in Italia oggi. Noi dobbiamo sempre considerare un risultato econometrico abbastanza importante, e cioè che quando uno si chiede a che livello cresce il PIL di un paese, tutti abbiamo delle spiegazioni generalmente orientate dalla nostra ideologia. Se sei di sinistra dici che è il capitale umano, se sei di destra è la bassa tassazione sulle imprese, se sei di centro liberale dici sono le buone istituzioni economiche. Ma questi fattori che ognuno invoca e che in realtà io ho controllato effettivamente funzionano tutti e tre e pesano più o meno uguale, sono niente rispetto al fattore di freno fondamentale nella crescita di un paese, che è il benessere. Il benessere acquisito ha una forza frenante enorme e così il benessere non acquisito, cioè quello che possono avere gli immigrati oggi in Italia, ma esattamente quello che avevamo noi negli anni 50, che avevano i nostri genitori, il benessere non acquisito è una formidabile spinta all'automiglioramento sia sul piano educativo, pensate la scuola radioelettra e tutte le istituzioni che c'erano negli anni 50 e 60 che permettevano di compatibilizzare il lavoro e lo studio. Questo crea una spinta enorme all'automiglioramento ed è la forza che fa sì che un'economia cresca. quindi ci sono tutti questi fattori combinati, un livello di ricchezza non così alto da spegnere ogni spinta a un miglioramento ulteriore e poi la quantità di forza lavoro giovane, cioè lo sviluppo economico dell'Italia è anche dipeso dal fatto che non eravamo ancora una società anziana come siamo adesso. Adesso abbiamo insieme alla Germania e al Giappone siamo il paese più vecchio del mondo. Difficile pensare che una grande spinta sia sul piano educativo che sul piano economico possa venire da una società di vecchi. Non so se ho risposto. Io non posso dire perché io non conosco bene la situazione di Israele. Però aggiungo una cosa importante. Mi è capitato di fare un dibattito su Israele qualche anno fa quando Fiamma Nierenstein fece un suo libro su Israele. Lo presentammo qua a Torino e io veni molto colpito dalla lettura di questo libro che mi pare si chiamasse Siamo tutti israeliani o qualcosa del genere perché leggendo le pagine della Nierenstein provava un senso crescente di stupore per come quella società funziona. Non entro nei dettagli perché questo non è un seminario su Israele però io provai a riassumere tutto questo da sociologo dicendo che ero esterefatto di avere trovato la descrizione dell'ultima società durcaimiana del nostro mondo. Cioè cos'è una società durcaimiana? È una società in cui la società è sopra l'individuo cioè c'è qualcosa al di sopra dell'egoismo o dei giusti diritti a seconda dei punti di vista dell'individuo qualcosa che lega che fa sì che ci sia un primato della società o del collettivo rispetto all'individuo e questa è una differenza molto importante di Israele e in parte secondo me anche di altri paesi dell'Europa in cui il diciamo il senso civico è molto più sviluppato che a questo proposito di comparazione anche sullo scenario europeo oserei un'ultima domanda e poi magari passiamo la parola anche agli altri intervenuti le vorrei chiedere come per ora ultima prospettiva nella sua analisi che emerge dal suo testo c'è quasi una differenza una dicotomia anche a livello europeo tra ciò che accade nei paesi nordici di matrice protestante possiamo dire ciò che accade invece nei paesi europei meridionali mediterranei di matrice cattolica o comunque non protestante come mai c'è questa differenza quasi un richiamo weberiano all'etica del capitalismo diciamo un eco della della dottrina weberiana come mai c'è ed è così presente questa differenza tra nord e sud Europa in questo scenario da lei descritto guardate la risposta onesta è che non lo so neanch'io nel senso che io non sono mai stato un sociologo delle religioni quando ero più giovane avevo 30 35 anni lavoravo con una collega che si chiama Loredana Sciolla una sociologa molto nota e molto in gamba che invece si occupava di religioni mi sembrava un argomento vagamente esoterico anche Garelli Franco Garelli a Torino si occupava di religione quindi non è mai stato un mio tema cosa è successo però che nelle mie ricerche soprattutto quando facevo lavori di tipo matematico statistico io un po' per curiosità infilavo spesso una dammi cos'è una dammi è una variabile 1-0 che ti dice se è un certo fenomeno c'è o non c'è in un dato posto o in un dato individuo nel caso dei paesi la dammi può essere 6 di religione cattolica può essere 6 di religione protestante e con mia grande sorpresa queste dammi funzionano quasi sempre o in una direzione o nell'altra per esempio la dammi essere di religione protestante ha un modesto impatto ma ce l'ha sull'equazione della crescita cioè il tasso di crescita di un paese c'è teris paribus un po' maggiore se il paese è protestante cosa che naturalmente se uno ha letto Weber non viene minimamente stupito adesso mi è capitato di scoprire una cosa che non ho ancora reso pubblica lo faccio adesso per la prima volta che il contenimento dell'epidemia da covid in Europa è strettamente connesso alla religione naturalmente ci sono tantissime cause con cause anche più importanti ma c'è un'anomalia in Europa cioè ci sono 4 o 5 paesi che non hanno avuto la seconda ondata ebbene questi 4 o 5 paesi sono tutti luterani non semplicemente protestanti sono luterani non è questo il posto in cui discutere di questo problema ma è per dirvi che la religione io non sono un sociologo della religione però a quanto pare un impatto ce l'ha e anche non tanto la religiosità ma il tipo di religione allora quello che è coerente con la teoria sociologica è che i paesi di religione protestante hanno un'etica del lavoro più pronunciata dei paesi di tradizione cattolica e il loro tasso di occupazione infatti è sistematicamente più alto il tasso di occupazione della Norvegia della Finlandia della Svezia altissimo Norvegia adesso è calato un po' dopo la crisi del 2011 ma eravamo arrivati a quasi il 90% di tasso di occupazione che è una cifra formidabile bene allora prima di andare verso le prospettive future io ne approfitterei per chiedere agli altri intervenuti il loro parere se ci sono dei profili che vogliono affrontare anche in base a quello che finora è emerso e quindi io direi di seguire l'ordine così di comparizione del programma e chiederei quindi al professore Francesco Botturi dell'Università Cattolica di Milano di intervenire e di darci una delucidazione dal suo punto di vista su ciò che è l'argomento in questione ecco buonasera grazie professor Ricorfei buonasera contento di conoscerla ho letto per intiere ripassandolo più volte il suo libro che conoscevo di fama e avevo idea generale del contenuto e l'ho trovato davvero molto interessante perché in realtà nel suo schema relativamente semplice poi si articola variamente e quindi è come dire metodologicamente utile a comprendere più cose insieme allora io non sono di formazione sociologica sempre occupato piuttosto di filosofia e quindi ho antropologia filosofica e quindi devo stare nel mio a me verrebbe la mia domanda viene appunto da questa mia sensibilità questa mia parte di competenza insomma cioè la mia domanda è quali sono i tratti antropologici che corrispondono a una condizione sociale culturale sociale come quella che lei descrive e analizza nel suo nel suo testo ecco se se dovesse dire con una con un'espressione rapida molto rapida direi che corrisponde a una situazione di di scissione o di scomposizione dell'esperienza umana questo peraltro è un tema su cui mi sono interessato anche anni fa e su vari profili ma quindi io da quello che allora già pensavo su un tema di questo genere come caratteristico della fine modernità del postmoderno lo ritrovo qui documentato in un modo molto analitico e preciso cioè dove voglio dire scissione o scomposizione dell'unità dell'esperienza vuol dire appunto che le capacità intellettuali morali volitive affettive si scompongono cioè non si riesce più a mantenere non si riscontra più una qualche organicità per cui un aspetto richiami all'altro faccio un esempio cioè pensiamo come noi abbiamo una sensibilità morale molto accentuata per gli aspetti di responsabilità pubblica e abbiamo invece una totale amoralità nella condotta privata come abbiamo molta preoccupazione per realizzazione di determinate realtà sociali almeno parole come idea della faccenda e poi scomponiamo le esperienze di base come quella familiare come se niente fosse oppure noi abbiamo un'idea della verità scientifica tecnologica a cui ci continuiamo ad appellare ogni piesso spento vedi anche i giorni nostri e poi si teorizza immediatamente che comunque il uomo non ha verità non conosce verità non sa come stanno le cose e quindi con una mano si pone con l'altra si toglie e via di ora se andassimo avanti così potremmo vedere che dal punto di vista proprio del funzionamento antropologico il soggetto contemporaneo ha proprio questa caratteristica io vorrei dire disperata disperante di non riuscire più a comporre una figura una figura che richiede esattamente un insieme di fattori che trovano una qualche armonia appunto perché se diciamo che siamo in una situazione in cui si è perso il gusto del lavoro si è persa la curiosità del sapere e quindi della competenza eccetera la voglia di investire l'interesse alla convivenza la sensibilità all'appartenenza dunque in questi termini anche poi l'analisi che lei fa sui fattori tipici di una società signorile di massa e siamo appunto esattamente in questa condizione ed è anche penso che anche sia anche sociologicamente sensato pensare che appunto tra condizioni sociali cascaimi ideologici di tipo collettivisti o libertari che abbiamo sono in circolo che sono ancora attivi in qualche modo e scomposizione appunto antropologica ci sia una sorta di circolarità o cioè di concausalità una alimenta l'altra questo dal punto di vista quindi il suo testo è una chiave di lettura assolutamente suggestiva appunto è una chiave di lettura oltre ad un'analisi specifica di una certa disciplina e naturalmente messi i pezzi insieme non si può che cavarne una impressione come dire pesante insomma no? cioè preoccupata è anche un po' angosciosa perché come dire ma se le cose stanno così come è possibile come è possibile uscirne come è possibile ricostituire in qualche modo un intiero che dovrà essere sicuramente diverso da quello che abbiamo sperimentato ma che deve essere qualcosa che mettendo insieme gli elementi sia in grado di affrontare la realtà di sostenere un progetto di investire da qualche parte l'energia ecco da questo punto di vista avvenendo la nostra domanda comune la questione educativa ecco che punto di dire che emergenza nel senso però non tanto come giustamente Eugenia sollecitava come attenzione cioè una cosa che emerge improvvisamente ma che poi non è una costante no no ma l'emergenza nel senso che si usa per esempio in filosofia morale invece che c'è il tema dell'emergentismo cioè qualcosa che emerge perché date delle condizioni si dà inevitabilmente anche se non necessaristicamente ma si dà inevitabilmente o si favorisce fortemente l'emergere di qualcosa ecco quindi la questione educativa emerge come un dato che fa da contrapunto a questo anche perché l'educazione dice esattamente una composizione non c'è educazione singolare di singole elementi di competenze attitudini atteggiamenti e via dicendo no l'educazione è appunto è un tutto no e questo ci viene dritto dritto dalla grande tradizione greca latina cioè è un tutto antropologico che in qualche modo procede in un movimento espansivo ed espressivo e si costruisce quindi costruttivo ecco ma c'è questo tutto ecco noi se diciamo che una parola che oggi non si riesce più a pronunciare è il tutto non c'è più nulla non c'è un tutto da nessuna parte ci sono frammenti ci sono aspetti ma il fatto è che si può togliere l'idea del tutto all'uomo sì lo si può togliere l'uomo può anche convincersi che non esiste totalità da nessuna parte neanche in se stesso però allora poi le conseguenze sono inevitabili se non c'è il tutto c'è la parte se non c'è neanche la parte c'è il frammento se non c'è neanche il frammento come è stato osservato da Roberto Esposito in un certo suo studio mi colpì questa sua osservazione che se non c'è neppure più il frammento c'è la scheggia ecco si potrebbe dire che il postmoderno è spinto che tante volte noi troviamo è appunto la scheggia la scheggia è diversa dal frammento perché il frammento conserva la memoria del tutto un frammento io capisco che è un frammento perché da lui posso ricostruire il tutto una buona parte o comunque l'idea di tutto il frammento di una statua il frammento di un prodotto perfetto professore mi scusi ma purtroppo per ragioni di tempo per ragioni di tempo così sentiamo anche gli altri scusate grazie per le sue suggestioni una battuta per chiudere la faccenda però ecco credo che comunque per trasgredire questa situazione ecco credo che abbiamo poche premesse poche premesse che ci possono dire ma da questo può succedere che effettivamente bisogna che qualcosa accada fuori quasi di imprevisto oppure qualcosa che accade nell'esperienza che la catalizzi in un modo che oggi non è più dato io apro questo scenario problematico per dire se non si riesce a pensare in questa direzione ecco temo che la questione dell'educazione e della composizione si trovi in una situazione disperata chiaro benissimo allora a questo punto passerei la parola al professore Gaetano Caputi della scuola nazionale dell'amministrazione eccomi buonasera buonasera a tutti chiedendo sempre purtroppo essendo tanti gli interventi il prezioso dono della sintesi quindi scusatemi se vi devo interrompere però è il mio grado mestiere in questo caso se ho ben capito io non devo rispondere adesso adesso ci sono gli interventi se vogliamo anche intervenire siamo sempre liberi sì 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 come avevamo detto all'inizio il dialogo è libero magari sentiamo il professore Caputi e poi ma guardate molto rapidamente per non togliere spazio naturalmente agli altri al dibattito soltanto alcune suggestioni su temi che mi sono diciamo più vicini per per dimestichezza per competenza e cioè un'analisi come sempre approfondita rigorosa assolutamente come dire multilivello che offre diverse prospettive di approccio curiosamente si è affacciata questa pubblicazione pochi mesi prima poche settimane forse prima del del cambio di tutto questo post questo covid nel quale siamo questa era covid nella quale siamo e quindi la come dire considerazione che facevo era la necessità di riconsiderare probabilmente alcuni aspetti chiave alla luce dello scenario e in questo senso di due cioè io vorrei due temi due due proprio due concetti due parole chiave rispetto a quella che è la mia prospettiva la mia capacità di di cogliere le problematiche proposte mi hanno mi stanno facendo riflettere e sono due parole chiave cioè patrimonio da un lato e debito dall'altra non una chiave strettamente economica da un lato l'analisi rigorosa sulla quale ovviamente non ritorno perché potrei solo dire peggio sulla divaricazione tra crescita del reddito e crescita della ricchezza come una delle con cause della situazione complessiva nella quale ci troviamo e delle ricadute sul sistema educativo che questo determina e dall'altro l'esplosione del debito soprattutto a partire da un certo momento in poi e così via allora io mi chiedevo ma immaginiamo un'analisi così rigorosa messa nelle mani di una lettura superficiale se non anche strumentale come quella che si può ritrovare e che grazie a Dio si ritrova con grande dovizia soprattutto in questo periodo allora immaginiamo come potrebbe essere violentato violentata l'analisi in una prospettiva come dicevo prima strumentale nella quale l'esigenza di riorientare la curva non va a pescare sull'esigenza sulla necessità di spingere sulla produttività del lavoro sul merito sulla selezione qualitativa della spesa ma va a puntare su che cosa sul colpire il patrimonio e attualità dettata dalla anche ricorrente per la verità ma comunque dettata anche dalla situazione contingente l'idea cara molti di una tassazione sul patrimonio come panacea per molti mali e probabilmente così intesa tutto questo non farebbe altro che amplificare i guai di una di un approccio tutto concentrato esclusivamente sulla spesa e non quindi sulla quantità di spesa e non sulla selezione qualitativa non sulla necessità di far salire il reddito più che far aumentare le erogazioni sotto forma di sostegno da un lato dall'altra il concetto di debito noi ci troviamo di fronte ad una ad un trend una tendenza che ha portato a crescere il debito pubblico e ha determinato fino a livelli incredibili 160 e forse oltre per cento del PIL e così via ora l'emergenza covid ci porta ad una espansione ulteriore e assolutamente inimmaginabile tutto questo e c'è una corsa addirittura c'è una rivendicazione anche qui c'è una strumentalizzazione per cui le dichiarazioni di qualche mese fa l'ex presidente della banca centrale europea vengono utilizzate come vessillo dietro il quale giustificare una lievitazione del debito pubblico a prescindere comune quale che sia indipendentemente dalla direzione dall'orientamento che assume tutto questo in un momento nel quale il debito pubblico sta esplodendo a livello globale quindi chiaramente chi parte da una condizione partiva da una condizione di 130-135% e oggi a 160 deve confrontarsi con altri competitors in altre condizioni ovviamente diciamo fa sempre più fatica senza considerare che tutto questo che cosa determina? Determina uno spostamento di ricchezza cioè non è che la ricchezza viene creata dal nulla la ricchezza viene trasferita quindi questo spostamento verso i debiti pubblici il debito pubblico porta una conseguente minore attrattività del debito privato il quale debito privato per essere alimentato di che cosa ha bisogno? Dell'intermediazione pubblica dell'intermediazione pubblica che quindi a questo punto non riesce a garantire la selezione del mercato ma condiziona come? Non lo sappiamo in maniera assolutamente non trasparente in maniera assolutamente derivata in maniera assolutamente non controllata e diventa la condanna cioè le dimensioni la quantità stanno diventando la nostra condanna perché un debito di queste dimensioni ci condanna alla come dire alla continua alimentazione di un debito di tale entità perché non è possibile scrollarselo di basso e quindi bisognerà rinnovarlo in continuazione come ecco la genialata del attingere al patrimonio della ricchezza ad una parte il patrimonio della ricchezza delle famiglie che naturalmente è la massima ambizione di chi vuole conservare ed eternare questo sistema perché? Perché le famiglie sono investitori che non votano cioè che votano nelle urne ma che non votano come investitori no? Non sono degli investitori istituzionali che si spostano dinamicamente secondo logiche di mercato ma hanno delle logiche di più lungo periodo eccetera e quindi sono più pigre e si possono tra virgolette accontentare o drogare con promesse di rendimento che guarda caso vengono tratte dalle stesse loro tasche perché sono più che altro famiglie cioè risparmiatori domestici e così tutto questo quindi enfatizzato nella situazione enfatizzato proporzioni incredibili fino a qualche mese fa nella situazione attuale Covid ora a me fa paura quasi riflettere come la particolarità l'eccezionalità la drammaticità del momento attuale che momento che in realtà è una fase tutt'altro che momentanea che viviamo e che non sappiamo fino a quando ci accompagnerà porta completamente al di fuori del dibattito comune che purtroppo il mainstream ci propone riflessioni su considerazioni di questo tipo e ci accapitiamo invece appunto ecco la strumentalizzazione dove sta no? sul patrimoniale sì patrimoniale no debito sì debito no senza che ci sia nessuna analisi di tipo qualitativo o peggio ancora nessuna analisi di tipo come dire di trend come quella che è alla base della pubblicazione di cui stiamo parlando cioè di capacità di leggere i fondamentali economici come non dipendenti autonomi ma come in grado di influenzare e di determinare caratteristiche fondamentali di una società quali sono naturalmente le infrastrutture educative e questo non è anche paura bene professore allora io a questo punto chiederei al professore Ricolfi dei brevi flash su queste sollecitazioni che finora ci sono arrivate dal punto di vista antropologico del professore Butturi queste riflessioni sui rapporti del debito pubblico dal professore Caputi posto che anche lei nel suo libro dedica ampio spazio al tema del debito pubblico soprattutto in relazione alla produttività del lavoro e alla situazione della società signorile di massa due flash appunto su queste sollecitazioni allora comincio dall'ultima sul debito la mia la mia idea è abbastanza semplice se si vuole evitare un salasso sul debito privato che avrebbe conseguenze disastrose sullo stesso sviluppo economico l'unica strada sarebbe stata perché non è più a mio parere quella di agire sul denominatore cioè il rapporto debito PIL si può contenere se si fa crescere il PIL a un ritmo molto sostenuto perché i mercati guardano più la derivata della funzione che non il livello un paese che ha un tasso di crescita del 3-4% e ne abbiamo in Europa alcuni ad esempio l'Irlanda Malta rassicura ai mercati quale che sia il livello del suo debito questa è una proposta è una visione del problema che molti economisti avevano prima del covid io stesso la sostengo in un'intervista all'Huffington Post che era del tipo dobbiamo fare dell'Italia un paradiso imprenditoriale se vogliamo raddrizzare la situazione ma questa intervista era a marzo o ai primi d'aprile adesso è troppo tardi adesso la transizione verso una società parassita di massa è iniziata ed è inarrestabile quindi io non mi pongo neanche più il problema quando penso al problema economico ci stanno ci stanno avviando a un percorso senza ritorno non dico altro perché se no mi intristisco invece voglio dire qualcosa che mi intristisce meno anche se il tema è altrettanto triste su quello che ha detto il professor Botturi perché io faccio sociologo e ragiono da sociologo ma forse voi non lo sapete sono laureato in filosofia sono stato allievo di Vattimo di Napoleoni e di altri docenti di Torino e quindi i temi che ha sollevato il professore mi sollecitano molto io voglio dire solo questo con pochissimi flash secondo me è giustissima la sua analisi della scissione scomposizione dell'esperienza io non la descrivo così perché non faccio più il filosofo però credo di capire di che cosa si tratta o perlomeno vi posso dire cosa fa venire in mente a me a me fa venire in mente alcuni processi che sono tipici delle società avanzate ma che in Italia assumono caratteri patologici e che secondo me hanno a che fare con il tema che avete sollevato cosa vuol dire scomposizione e beh vuol dire che due cose che stavano due o più cose che stavano insieme adesso stanno separate esempi beh c'è un grandissimo esempio che è il rapporto tra la cultura dei diritti e quella dei doveri noi siamo completamente sbandati nella direzione del primato assoluto dei diritti questo è un elemento di squilibrio cioè l'essere umano permettetemi il termine normale funzionante storico classico realizzava un certo equilibrio tra diritti e doveri probabilmente con uno sbilanciamento eccessivo nei confronti dei doveri fino a uno o due secoli fa ma adesso è completamente sbilanciato dal lato dei diritti la cultura dei diritti è pervasiva e crea scissione poi c'è un secondo elemento che si dimentica troppo spesso a mio parere cioè è in corso da alcuni secoli non solo da alcuni decenni lo smembramento dell'umanesimo cioè l'umanesimo era la convivenza fra discipline che oggi chiamiamo scientifiche e discipline che oggi chiamiamo umanistiche ma umanesimo una volta voleva dire tutto cioè l'umanista era uno che sapeva di diritto di matematica di filosofia di storia ora l'idea di formare una persona in modo completo con un coté scientifico un coté umanistico nel senso di oggi è una grande idea dell'umanesimo che è scomparsa negli ultimi decenni e che ha perso particolari colpi con colpi molto forti con la distruzione del liceo classico che era il luogo dell'umanesimo ma c'è una terza cosa che a me colpisce molto che è la regressione psicologica cioè noi gli esseri umani si differenziano dagli animali per molte caratteristiche c'è chi dice la religione la parola il pensiero eccetera ma ce n'è una fondamentale secondo me che si dimentica troppo spesso perché è stata scoperta nel 56 da una disciplina che non è così alla moda la psicologia sociale questa caratteristica è la tendenza dell'essere umano alla riduzione della dissonanza la riduzione della dissonanza cognitiva significa detto in termini filosofici l'autoinganno noi abbiamo una straordinaria capacità di ingannare noi stessi ora questa capacità trovava un tempo un limite nel senso comune oggi è completamente esplosa noi siamo macchine per ingannare noi stessi c'è un'ultima flash se mi è concesso ancora un minuto che è forse quello cui tengo di più non stiamo considerando che un aspetto fondamentale della non frammentazione è il fatto che la cultura risieda nella mente voi direte questa è una banalità ma attenzione fino a un certo punto se voi avete presente il modello la metafora del computer nel computer c'è una parte che si chiama RAM la memoria viva accesso random cosiddetta e poi c'è una parte morta che è la memoria di massa ora l'essere umano fino a qualche decennio fa aveva una RAM consistente una memoria di massa modesta l'essere umano attuale ha invece una memoria di massa enorme è una RAM cioè una memoria viva inconsistente perché i pensieri e le conoscenze la cultura in genere risiede nella nostra mente per un tempo piuttosto breve poi evapora perché la scuola ci insegna esattamente questo ci insegna a ricordare vale anche per l'università pensate agli esoneri gli esoneri sono dispositivi di evaporazione della cultura dentro la mente delle persone perché la gente studia per l'esame fa l'esonero un pezzo dell'esame e poi dopo un mese ha dimenticato tutto ora questo era impossibile nella scuola di un tempo perché se voi pensate io penso a mio padre alla maturità lui ha portato quattro anni quattro anni di liceo scientifico il programma di quattro anni io mi sono salvato dalla maturità perché quando mi sono maturato io hanno fatto la riforma nel 69 e quindi già la mia maturità è stata molto ma molto più facile di quella dei miei genitori ma le maturità successive sono diventate sempre più facili ma più facili in che senso non solo nel senso che l'asticella è bassa ma nel senso che le persone vengono istruite considerando normale che ciò che viene trasmesso non si depositi nella mente allora a mio parere il tema sollevato dal professor Botturi ha una componente cognitiva molto forte la scissione e anche la disorganizzazione della nostra mente guardate io fino a un anno fa avevo ho fatto quest'anno ho fatto due appelli ma nella mia vita mi ero sempre dato la regola di non fare appelli e in 40 anni non ho mai fatto appelli tranne uno quest'unico appello che ho fatto 5, 6 o 7 anni fa era difesa del liceo classico e la mia difesa del liceo classico nasceva dalla mia esperienza di professore universitario agli esami che è la seguente io insegno analisi dei dati che è una materia estremamente difficile ma è una materia soprattutto molto logica non c'è tanta matematica c'è molta organizzazione logica la cosa che più mi sconcerta nei miei studenti è la completa mancanza di organizzazione mentale cioè se dovessi dire che cos'è che non hanno è un livello di organizzazione mentale sufficiente a capire una materia come la mia allora questo è una cosa che abbiamo prodotto in questi 50 anni ed è un grossissimo limite dell'educazione quindi era solo per dire secondo me ci sono tanti aspetti nei quali questa scomposizione di qualcosa che era unitario si vede e la disorganizzazione mentale io la tocco con mano agli esami questo l'ho raccontato forse Eugenia un po' di tempo fa Paola Mastroco la mia moglie ed io abbiamo scritto un libro che non abbiamo ancora pubblicato in cui descriviamo esattamente questo processo che è accaduto nella scuola la progressiva disorganizzazione delle menti degli allievi che è un lungo processo storico iniziato nel 1962 e che ha portato ecco a una visione del problema che mi fa pensare il problema dell'educazione con un titolo un po' diverso da quello che avete pensato voi perché io l'ho già detto Eugenia lei ha dato questo titolo emergenza educativa ma per me l'emergenza è qualcosa non solo che emerge ma qualcosa di improvviso temporaneo qualcosa che prima c'era prima non c'era e adesso c'è invece il processo di cui stiamo parlando è in corso da 58 anni dalla riforma del 1962 è un lunghissimo processo di distruzione della cultura nel nostro paese che adesso ovviamente è irreversibile cioè noi siamo nello stadio nello stadio terminale chiaro sotto questo profilo a questo punto io chiederei qualche spunto di riflessione sebbene anche questo sintetico al professor Giancarlo Cesana dell'Università degli Studi di Milano Bicocca sì saluto tutti gli intervenuti voglio dire a Eugenia che non sono il presidente di Enzo il presidente di Gisto Mercati sono dei fondatori comunque faccio due considerazioni molto schematiche per evitare di allungare che sono fondamentalmente delle domande la prima è sull'aggettivo signorile su cui ho dei dubbi perché non mi intendo adeguatamente di patrimonio di evito pubblico di economia però dei dubbi che noi siamo ricchi mi intendo invece di servizi e soprattutto di sanità e da questo punto di vista noi siamo veramente poveri se noi prendiamo questa questa condizione dell'epidemia del covid e andiamo a vedere diciamo il dato più solido il più importante da un punto di vista epidemiologico che è la mortalità e paragoniamo la mortalità italiana per covid rispetto a quella dei paesi con cui ci confrontiamo Francia Inghilterra Spagna e soprattutto Germania noi siamo peggio se ci confrontiamo poi con la Germania che ha 20 milioni di abitanti più di noi e ha un terzo della nostra mortalità noi non solo siamo peggio siamo un disastro qui è probabile che ci siano delle differenze di classificazione delle cause di mortalità bisogna rappropondire ma soprattutto c'è una differenza loro hanno una spesa sanitaria che è esattamente il doppio della nostra e ormai tutti i paesi hanno una spesa sanitaria tutti i paesi con cui noi siamo soliti confrontarci hanno una spesa sanitaria che è superiore alla nostra noi quando quando se si guardano i grafici a Instagram dell'OECD piuttosto che dell'Unione Europea noi ormai siamo a destra della media andiamo verso la Bulgaria e questo sta succedendo da tempo cioè c'è un impoverimento progressivo da cui noi non riusciamo a uscire per tutte le cause che ha detto il professor Di Foro e a questo diciamo impoverimento economico dice che si diventa triste a dire queste cose e lo divento anch'io perché è una situazione corrisponde un impoverimento culturale ancora più grave in Africa dicono che per educare un uomo ci vuole un villaggio ecco non c'è più villaggio il 68 prolungato che abbiamo vissuto col sinistrismo eccetera il socialismo strisciante che ha invaso il paese che si è realizzato eccetera ha distrutto il villaggio che c'era ma non ha nessun altro per cui non ci sono principi non ci sono regole non ci sono leggi no? e la cultura è andata giù no? tanto è vero che quando noi facciamo i confronti per quanto riguarda il rendimento delle rispuzioni delle scuole eccetera eccetera noi siamo sotto siamo sotto tutti gli altri paesi con cui solitamente ci confrontiamo noi stiamo andando verso l'Egitto stiamo diventando un paese povero non so quando e come ci riprenderemo certamente adesso non ci sono le condizioni ecco io poi queste considerazioni le faccio anche perché per l'esperienza che ho fatto in CL in Comunione e Liberazione e per il rapporto ho avuto con Giussani cioè di una cultura forte in Italia quello che posso dire è che se c'è una cultura forte in Italia ci si riprende ci si riprende dal punto di vista della scuola dal punto di vista dell'educazione dal punto di vista del rendimento dell'istruzione e così via e questa è un'esperienza che ho fatto che c'è ancora tuttora e che è documentata per esempio nelle classifiche di eduscopio della Fondazione Anelli le migliori scuole sono quasi tutti di CL non si dice però è la verità e questo e questo diciamo fa vedere qual è l'alternativa che sicuramente secondo me è innanzitutto un problema culturale molto grave da questo punto di vista cioè bisogna sapere dove andare ecco noi non sappiamo dove andare e non sappiamo neanche se abbiamo voglia di andarci no e questa è una tragedia la tragedia nel nostro popolo per cui non si fanno i figli perché non si fanno i figli per questo non per le situazioni economiche eccetera no in Israele dall'altra parte eccetera è diverso perché hanno una prospettiva cioè Israele è un paese che ha una prospettiva no che è stato fatto per un motivo che va verso uno scopo ma questo più o meno in tutti i paesi se guardiamo la letteratura la nostra internazionalmente fa ridere no cioè siamo in una condizione veramente di grave impoverimento sia da un punto di vista economico che da un punto di vista culturale magari poi ce la spassiamo da signori però sono signori poveri insomma siamo signori poveri concianti male chiaro chiarissimo allora direi che è un una prospettiva critica rispetto finora a quello che è emerso anche se all'interno di quella circolarità per cui una cattiva società produce cattiva educazione che produce cattiva cultura e cattivi cittadini e viceversa quindi c'è una circolarità costante non so se il professore Ricolfi magari vuole rispondere a questa provocazione del professor Cesana sì volentieri ma in realtà siamo credo che siamo abbastanza d'accordo l'uso della termine signorile è abbastanza tecnico nel senso che io sono stato allievo di Claudio Napoleoni e lo uso il concetto di società signorile nel senso in cui lui usava l'aggettivo cioè pensando mi ricordo una frase che lui disse una volta a lezione molto tangshan e semplice il rapporto di sfruttamento non è quello tra il datore di lavoro e l'operaio il rapporto di sfruttamento è fra chi accede al surplus senza produrlo e chi accede al surplus producendolo e questo è il rapporto di signoria cioè il signore accede al surplus senza produrlo per questo io ho parlato di società signorile ma avevo in mente essenzialmente la sfera del consumo su cui credo che ci ritroviamo tutti invece le considerazioni di Cesana puntano in una direzione che è quella del senso collettivo di una società quando si dice la salute non è protetta certo per questo non lo è perché siamo una società individualista consumista e signorile ma signorile non nel senso che è ricca su tutte le dimensioni signorile nel senso che il primato del consumo e dell'opulenza tipico dei signori vince su tutto anche su una cosa importante come può essere la sanità tra l'altro questa cosa del covid è verissima noi abbiamo il tasso di mortalità più alto del mondo dopo quello del belgio in questo momento solo il belgio ha più morti di noi tra l'altro il belgio ne ha di più probabilmente per una ragione tecnica cioè che sono morti quasi tutti quasi metà sono morti nelle residenze per anziani e sono stati automaticamente classificati come morti covid e questo ha gonfiato la statistica del belgio senza questo diciamo anomalia statistica probabilmente oggi avremmo il primato del numero dei morti è certo che la sanità conta tantissimo in questo io tra l'altro sto facendo un modello matematico determinante del tasso di mortalità e le variabili menzionate da Cesana entrano in modo statisticamente significativo nel numero di morti sia il numero non tanto i posti in terapia intensiva ma proprio il numero di posti di posti letto quindi io la descrizione che ha fatto Cesana la condivido che poi il termine signorile piaccia o no è un altro paio di mani allora cederei la parola al professore Michele Rosbock dell'Università di Torino bene anch'io ringrazio il professor Ricolfi gli organizzatori e tutti gli amici che sono intervenuti e interverranno ci sono tanti spunti che si potrebbero dire e io reagisco ad alcune cose che sono state dette dal mio punto di vista di uno studioso di diritto soprattutto di storia del diritto e anche impegnato in qualche tentativo di costruzione anche di opere culturali tra cui esserci e io mi sembra la prima cosa da dire che la descrizione di quella società signorile che ha fatto il professor Ricolfi a mio avviso si sposa con una condizione culturale che è quella di una grande omologazione di una grande massificazione e oggi si vede questa come dire questa stagnazione anche di un certo politicamente corretto che a mio avviso è molto ideologico ed è anche dal punto di vista istituzionale sociale diciamo così giuridico politico si sposa bene con un certo assistenzialismo quello statalismo di ritorno che abbiamo visto anche in questi ultimi mesi nello stesso tempo è pur vero che anche in questa condizione difficile drammatica emergono dei punti di creatività di speranza si vede che comunque c'è tutto questo in Italia però ogni tanto emerge qualcosa che sorprende ed è interessante capire da dove nasce la seconda cosa che io vorrei dire perché a me sembra che quando nascono questi punti e Giancarlo ne ha citato uno un'esperienza fondamentale a cui anche io appartengo generata da un carisma cattolico ma ce ne sono tanti altri nel mondo dell'imprenditoria e non soltanto della filantropia c'è sempre un ideale forte a cui si fa riferimento e a me sembra che anche per riprendere il tema dell'educazione bisogna riprendere il tema degli ideali cioè non si può educare senza libertà e non si può educare senza dare appunto delle prospettive grandi cioè degli ideali grandi ma anche dal punto di vista istituzionale a me sembra che questi richiami rischino di essere certe volte un po' come dire un po' dall'alto un po' da fuori dei processi se non c'è una mediazione e io dico quello che secondo me è il punto su cui anche si sta cercando di riflettere e di lavorare che è quello del valore diciamo delle comunità Giancarlo Cesana parlava dei villaggi dei corpi intermedi che secondo me non sono perfetti anzi hanno mostrato tanti i loro limiti ma questa dimensione comunitaria dell'intrapresa ha il vantaggio di equilibrare quello che si diceva diritti o doveri o quello che la filosofia dice la libertà maggiore la libertà minore e anche di rendere i richiami a quei sacrifici che sono necessari in qualche modo dentro una prospettiva di sostegno reciproco quindi secondo me anche dal punto di vista educativo è sulla crescita di vere comunità educanti non educatori singoli da cui si può in qualche modo ripartire e questo vuol dire tante cose vuol dire strumenti di aiuto alla vera libertà educativa vuol dire difesa di un pluralismo educativo in tutte le scuole da quelle statali alla possibilità che esistano delle scuole libere e quant'altro l'ultima osservazione che faccio perché mi ha colpito è quel richiamo che faceva Ricolfi al nesto fra la variabile religiosa e forse varrebbe la pena indagare se la situazione italiana dipende dalla sua tradizione dall'essere effettivamente di tradizione cattolica oppure se in qualche modo dipenda dall'avere in parte smarrito tutta la forza e quella verità della tradizione cattolica cioè se dipenda piuttosto dagli effetti di quella che è una secolarizzazione molto diffusa che ha generato anche quella che Pasolini chiamava una certa omologazione ma questo può essere l'oggetto di un altro incontro senz'altro di altri libri vi ringrazio molto benissimo benissimo interessantissimo io do un piccolo avviso il professor Caputi si è dovuto disconnettere ringrazio e manda un saluto a tutti e in particolare anche a Maurizio Sacconi quindi lo abbiamo diciamo perso in connessione via facendo e a questo punto chiamo in causa proprio Maurizio Sacconi chiederei a lui un suo intervento su quello che finora è emesso saluto tutti e faccio due considerazioni molto rapide condividendo il libro di Ricolfi ho solo qualche perplessità sulla dimensione che egli attribuisce a quella che chiama la componente paraschiavistica del nostro mercato del lavoro credo che questa dimensione sia un po' enfatizzata anche se capisco come essa sia funzionale alla società signorile di massa e e a quelle caratteristiche che ancor più nel 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 trauma che stiamo oggi vivendo possono condurre al declino italiano è emerso a mio avviso molto chiaramente il problema culturale i riferimenti a Israele per un verso ai paesi luterani per l'altro la domanda che ci poniamo su quali siano le influenze culturali prevalenti nella nostra società e nella nostra anche dimensione pubblica mi sembra la spiegazione principale della nostra condizione lungo tutto il dopoguerra noi abbiamo visto un conflitto fra vitalismo e nichilismo soprattutto a partire dagli anni 70 il nichilismo si è organizzato ha trovato rappresentanza politica a me era piaciuto già leggendo il libro in riferimento a Claudio Napoleoni un intellettuale comunista che iscriverei nel vitalismo ma quanto lontano il pensiero di Claudio Napoleoni da da quella caratteristica che gli eredi del vecchio partito comunista trasformatisi in partito radicale di massa hanno acquisito cioè il il vitalismo comunista di Napoleoni si è trasformato ora in individualismo e corporativismo che sono le due caratteristiche della della nuova sinistra a partire dagli anni 70 però questo accade io capisco come il professore Colfi consideri la riforma della scuola media unificata il punto di partenza del declino del sistema educativo e condivido la sua valutazione ma il vero la vera il 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 nichilismo si sviluppa soprattutto negli anni settanta negli anni settanta quando il il partito comunista guidato da Enrico Berlinguer invece di prendere la via socialdemocratica cerca l'incontro con la sinistra cattolica sul terreno su un terreno che è quello che poi genererà la 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 generazione nell'individualismo nel corporativismo di cui prima dicevo insomma nel nichilismo eh oggi come non collegare la stessa ehm aggressione ai principi antropologici con il nichilismo eh se ehm eh i se i desideri si fanno diritti come possiamo pensare eh che ci possa essere vitalità demografica eh vitalità del mercato del lavoro vitalità educativa o che la eh la scuola e l'università possano essere fonte di vitalità eh c'è stato però in questi ultimi eh due nel 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 nei due ultimi decenni anche una rappresentanza politica del vitalismo io ricordo un momento certamente felice nel quale eh due consiglieri del governo Berlusconi due eh che erano Marco Biagi e eh Bertagna eh Bertagna ottimo pedagogista cattolico eh Marco Biagi ottimo giuslavorista cattolico ehm lavoravano di concerto intorno a un'idea di società attiva eh contrapponendola a a a quella società rattrappita che già individuavano in termini di bassi tassi di occupazione bassi tassi di natalità eh eh e di bassa qualità educativa eh quella ehm quella rappresentanza politica che a centrodestra si era manifestata e che eh si era tradotta anche in attività legislativa attività normativa dal punto di vista del di alcuni profili antropologici penso alla legge sulla fecondazione assistita quella rappresentanza politica si è via via affievolita eh indebolita eh l'influenza eh del pensiero eh cattolico conservatore è venuta meno eh ed è evidente che un certo peso lo ha a questo proposito lo assume la stessa chiesa eh e nel momento contingente che essa vive e insomma se ha ragione Eugenia a parlare di un progetto culturale a riprendere il testimone da Camillo Ruini e a cercare di proporre una dimensione pre-politica eh nella quale cioè ci si possa ehm si possono coniugare diversi aspetti formando un intero che eh sia si muova nel senso nel segno del vitalismo ehm ovviamente c'è anche un'implicita mia sollecitazione a Ricolfi se condivide eh questa valutazione circa il declino della sinistra italiana dai tempi in cui eh i Napoleoni la facevano componente del vitalismo a un tempo nel quale questa si è trasformata in alfiere del del eh del più esteso nichilismo grazie chiarissimo bene allora a questo punto eh professore Ricolfi eh ne approfitto sia per consentirle di rispondere a queste ulteriori suggestioni sia per chiederle anche così andando verso la conclusione se quello che eh ci siamo detti finora è un destino ineluttabile a cui eh dobbiamo soggiacere eh oppure no se ci quali sono e quali potrebbero essere le soluzioni eh che lei ha pensato per il futuro per fuoriuscire per arginare o per eliminare lo stato in cui versiamo e che è uscita da questa eh da questa analisi vorrei fare un'ultima domanda anch'io al professor Ricolfi perché adesso eh ci si divide un po' su su questa sulla questione della pandemia sul dopo cioè cosa cosa succederà dopo la pandemia c'è chi pensa che tutto cambierà tutto è cambiato e c'è chi come uno dei miei scrittori preferiti Welbeck eh a proposito di descrizione del del nichilismo attuale è inarrivabile dice invece che il covid funziona solo come un acceleratore che in realtà nulla cambierà e che i fenomeni che seguiranno sarebbero comunque intervenuti ed è appunto solo una questione di velocità eh quindi nulla cambia o tutto cambia volevo avere eh rispetto alla società di mass e l'analisi che lei fa eh il covid come interviene tutto questo intanto vi ringrazio anticipatamente perché ci lasceremo fra non molto di questo incontro vi è stato molto piacevole e provo a dire qualche cosa sugli ultimi punti e sulla anche sulla domanda finale della di Eugenia eh su quello che hanno detto eh Sacconi e Rosbock eh io penso che abbiano posto sostanzialmente lo stesso problema in realtà eh che è il problema dell'individualismo perché eh guardate anch'io mi sono chiesto se c'entra la cultura cattolica eh ma mi sono risposto di no per un per vari motivi il primo è che eh se noi guardiamo quali sono i grandi paesi cattolici in Europa eh abbiamo la Polonia abbiamo l'Irlanda abbiamo l'Italia abbiamo la Francia abbiamo l'Austria sono modelli sociali completamente diversi quindi eh anche gli irlandesi sono cattolici in maggioranza ma è un mondo completamente diverso dal nostro semmai è il polo opposto rispetto alla società signorile eh quindi la mia prima risposta è hm la cultura cattolica non c'entra nei guai del paese può averla accentuata in certi aspetti ad attenuata in altri ma non è la variabile fondamentale eh che cosa c'entra ma forse eh quello di cui parlava Sacconi cioè la nostra deriva individualistica che anch'io ritengo sia partita io ci metto una data se proprio devo metterci una data a tutti i costi eh nel 1974 75 con col femminismo e col cambiamento di modelli culturali eh legato a a quella stagione eh e lì eh sono impareggiabili le analisi del noce cioè effettivamente io ho cercato di parlarne in un altro libro che si chiama Sinistra e Popolo in cui ho descritto proprio quello di cui parlava Sacconi e cioè la mutazione perché io la considero una vera mutazione del partito comunista italiano che era un caposaldo del sistema sociale nel bene e nel male però era sicuramente un contrafforte del funzionamento di di questo paese eh dicevo la sua trasformazione in società in eh partito radicale di massa che del noce aveva previsto se non sbaglio già negli anni settanta e che si è completata soltanto negli ultimi eh venti anni forse qualcosa qualcosa di più allora nel momento in cui il partito che rappresenta almeno idealmente eh la dimensione collettiva il primato della società sull'individuo capovolge la sua visione del mondo e punta tutte le sue carte sull'esaltazione delle spinte individualistiche in un sistema sociale che è già soggetto eh a una deriva di tipo individualistico beh nel momento in cui questo succede eh beh il il nostro il nostro destino in un certo senso è è segnato e non per assolvere il partito comunista devo dire che probabilmente le radici sono molto antiche io non so se eh anche a voi è capitato di leggere un vecchio libro di Barzini eh Junior eh sul carattere degli italiani ci sono delle costanti antropologiche nel carattere degli italiani eh che il loro peso ce l'hanno e che influiscono anche sulle grandi forze politiche noi siamo fondamentalmente anarchici e individualisti e ancora oggi eh io lo dico da statistico se voi prendete gli indicatori fondamentali di individualismo l'Italia la società sviluppata più individualista del mondo non c'è nessun'altra società che ha gli indici di individualismo eh così così alti soprattutto nella nella sfera del consumo quindi sì secondo me questo è il problema eh l'individualismo complicato però da una mutazione eh di tipo non so se definirla culturale filosofico o epistemologica eh la mutazione è o linguistica eh la mutazione è questa che ciò che veniva interpretato un tempo nel registro dell'egoismo oggi è interpretato in quello dell'autorealizzazione guardate che questo è un cambiamento veramente fondamentale gli stessi comportamenti venivano classificati come eh individualistici o egoistici oggi eh l'individualismo ha trovato una maschera con cui giustificare se stesso che la l'idea che in realtà è un'idea alta è un'ideale morale più che rispettabile dell'autorealizzazione che cambia però eh completamente le carte in tavola vi eh vi faccio un altro esempio linguistico avete notato l'evoluzione del termine eh della parola condivisione negli anni cinquanta se uno avesse usato la parola condivisione immaginava una persona che ha un cesto di dieci pere e ne dà tre al suo vicino condividere vuol dire io sottraggo a me qualcosa per darlo a te eh nel mondo attuale la condivisione consiste che nel fatto che quel cesto di dieci pere io lo mando eh con whatsapp a decine di persone per far vedere che meravigliosa merenda sto facendo e la parola condividere ha cambiato completamente significato quindi eh questa è la deriva profonda secondo me del nostro paese cioè su cui eh si è innestata la scelta politica del partito comunista di diventare il rappresentante dei ceti medio-alti questo non c'è dubbio oggi se voi andate a vedere un film vecchio come Caterina va in città è chiaro che alla domanda chi sono i ricchi chi sono i poveri e la risposta della ingenua Caterina è che i ricchi sono i comunisti e i poveri sono i fascisti eh quartiere di Roma naturalmente piccola piccola realtà allora questa è la deriva di fondo cioè siamo una società eh sempre più individualista questo viene anche dal carattere nazionale dalla nostra storia di eh dominazione il partito comunista ha enormemente accentuato questa deriva che era già eh era già nelle cose e adesso che cosa eh ha sedimentato che cosa ha lasciato questa deriva ha lasciato che la rappresentanza dei ceti popolari spetta ad altri cioè lo spazio che la sinistra non occupa più perché ormai rappresenta i ceti alti altissimi eh viene occupato da forze eh che per semplificata per semplificazione linguistica vengono etichettate come eh populiste e che comunque vanno a a riempire un vuoto questo vuoto però è stato creato da chi eh ha deciso di alterare la propria base sociale se oggi ci sono eh la Lega e i Cinque Stelle è perché eh negli anni fine anni settanta inizio anni ottanta il partito comunista ha iniziato quella deriva che eh Augusto del Noccio aveva previsto eh dieci anni prima che eh che iniziasse dico ancora due parole invece sulla eh domanda di le ultime due domande che riguardano il futuro e confesso che non non ho una una risposta chiara perché alle volte penso eh come Welbeck che non cambierà nulla che noi siamo quello che siamo e non siamo in grado di imparare nessuna lezione che il Covid non ci insegnerà nulla eh e anzi magari accentuerà eh il nostro diciamo il nostro ateismo di fondo eh tra l'altro io non sono cattolico eh però non considero positivo una deriva ateistica di una di un sistema sociale allora può darsi che il Covid il nostro ateismo di fondo lo solleciterà ulteriormente e eh ci renderà ancora più eh individualisti di quello che siamo può anche darsi che qualcosa cambi eh io se devo scommettere sono più sulla linea che poco cambi perché penso che eh diciamo la degenerazione del nostro tessuto sociale si è spinta talmente avanti che eh è difficile immaginare un'inversione di tendenza però non escludo completamente eh una possibilità diversa per due ragioni una è che la botta è così forte sarà così forte che qualcuno dovrà pensare a cambiare qualcosa eh diciamo che ci sono dei lussi che una parte della popolazione non si potrà più permettere e io dico tranquillamente che la società signorile di massa è finita tre mesi dopo l'uscita del mio libro perché nel momento in cui è partito il Covid eh io vi ricordo una cosa che io il 4 marzo ho fatto una specie di profezia non solo che avremmo avuto tanti morti ma che avremmo perso tra il 15 e il 20 per cento di punti di pil ora non so se ci rendiamo conto che perdere tra il 15 e il 20 per cento di punti di pil perché è questo a cui ci avviamo che che ne dica il ministro Gualtieri significa retrocedere di alcuni decenni allora può darsi che retrocedendo noi di alcuni decenni anche alcuni comportamenti del passato che erano sicuramente più virtuosi di quelli attuali abbiano qualche chance di ritornare in auge tuttavia questa eventualità io la considero remota se la pensiamo come una un qualcosa che può caratterizzare il sistema sociale nel suo insieme cioè non credo che l'Italia imparerà ad atteggiarsi a comportarsi come negli anni 50 e negli anni 60 quando eravamo sufficientemente poveri e desiderosi di migliorarci da convincerci a mettere in atto altri comportamenti non credo che questo succederà però penso una cosa che mi sembra diceva Cesana se non sbaglio che dicevano molti di voi in realtà cioè che le piccole comunità esistono cioè io penso un po' quello che che mi è capitato di sentir dire anche a qualche grande critico letterario cioè che c'è una parte della cultura che è destinata a sparire ma non questa sparizione non impedisce ai piccoli gruppi alle piccole comunità di ritrovarsi e di resistere e di creare esperienze alternative allora il campo dell'educazione è un campo fondamentale nel quale c'è la possibilità di fare qualcosa di diverso che inverta la tendenza però attenzione qui io vi dico una cosa molto estremistica e radicale ma interpreto questo spazio come un posto molto libero in cui puoi dire anche cose un po' controcorrente ebbene io penso che la possibilità che la tendenza si inverta in piccole comunità è legata a un cambio di paradigma cioè dobbiamo smetterla di pensare al bene di tutti perché vi faccio un esempio molto molto chiaro sulla scuola che prende un po' a prestito da un libro che scrisse Paola Mastrocola un po' di tempo fa che si intitolava Togliamo il disturbo secondo me il sottotitolo se non sbaglio era saggio sul diritto di non studiare secondo me questo è molto importante cioè la cultura può rinascere se è una libera scelta e la libertà deve essere spinta al punto da togliere l'obbligo io sono contrario all'obbligo scolastico perché è è nato in un'epoca in cui aveva senso perché le famiglie contadine non mandavano i loro figli a scuola allora era una cosa molto progressiva adesso l'obbligo scolastico è qualcosa che viene subito e che non stimola chi è desideroso di farsi una cultura a farlo perché è un'imposizione esterna allora io vedo molto bene un mondo in cui chi intende non andare a scuola non va andrà sul mercato del lavoro si farà mantenere da mamma e papà e chi invece desidera studiare ama la cultura ama i libri ama il mondo di ieri perché di questo stiamo parlando stiamo parlando del mondo di ieri a tutte le condizioni per farlo perché esiste un ambiente scolastico culturale universitario che condivide quei valori che non sono cattolici o protestanti o ideologici non sono valori umanistici e fa valere quelle le regole del mondo di ieri questa è la possibilità che considero più più realistica ovviamente parlando del mondo di ieri mi riferisco al grande libro di Jared Diamond che consiglio tutti di leggere un libro di alcuni anni fa che come sociologo ho molto apprezzato lui è più un antropologo che un sociologo ma l'ho molto apprezzato perché spiegava come da mille punti di vista le società moderne sono superiori a quelle tradizionali ma ci sono alcuni aspetti cinque ambiti della vita in cui una società tradizionale è superiore ecco questo secondo me è un punto di vista da prendere in molto seria considerazione chiarissimo grazie professore grazie a tutti gli interventi grazie a voi lascerei le conclusioni a Eugenia credo che tocchi a te grazie sì non è che abbia molte conclusioni da fare intanto devo ringraziare tutti perché è stato un dibattito almeno per me penso che sia per i partecipanti sia per chi si è collegato è estremamente interessante e molto libero e poi un dibattito che in cui secondo me è emerso proprio uno dei punti per cui io ho costituito l'associazione progetto culturale cioè il fatto di come la questione antropologica si intrecci con tutto il resto non sia una questione non sia assolutamente intanto solo una questione etica come viene spessissimo interpretata o addirittura una questione cattolica che riguarda solo i cattolici anzi i cattolici reazionari i cattolici conservatori ma in realtà è invece profondamente intrecciata lo sviluppo economico culturale demografico di un paese alla sua cultura in generale in senso proprio antropologico quindi in senso molto ampio e questo devo dire qualcosa che soprattutto i politici non hanno mai capito nel nostro paese e spesso devo dire anche gli studiosi non hanno fino in fondo capito invece mi sembra che in questo dibattito è emerso con grande chiarezza negli interventi di tutti l'unica cosa che vorrei dire è che ecco sulla questione invece della religione del peso della religione su quello che accade io non credo che sia che ci si possa rifare appunto l'analisi leberiana la differenza tra cattolici e protestanti credo che invece sia in effetti e è vero che gli italiani sono sempre stati individualisti ho letto il libro di Barzini ma erano anche accusati di familismo morale erano all'analisi di Banfield erano estremamente familisti e poi molto anche comunitari perché la stessa distribuzione dei paesi delle comunità nel nostro dei campanili nel nostro paese crea appunto queste piccole comunità cioè la provincia italiana secondo me straordinaria anche dal punto di vista letterario era in realtà una grande ricchezza dal punto di vista proprio culturale ecco io credo invece che il il danno sia stato fatto proprio dalla perdita di questo tessuto e della eccezione italiana perché Giovanni Paolo II parlava di eccezione italiana anche intendendo tutte queste cose e dalla secolarizzazione dalla dall'omologazione anche intrapresa con la secolarizzazione quindi penso che sia questo che noi abbiamo perduto e che ci porta anche a essere particolarmente fragili nel contesto europeo comunque appunto volevo solo ringraziare tutti e vediamo se riusciamo ad approfondire qualcuna delle molte molte suggestioni che sono emerse stasera in un altro incontro grazie a tutti arrivederci grazie arrivederci grazie arrivederci saluto a tutti grazie a tutti grazie grazie professore salute grazie a tutti grazie a tutti